Serie C come caos, il futuro dei campionati minori è un rebus e così il presidente della LND, Cosimo Sibilla, prova a fare chiarezza. Quanto indicato dal consiglio direttivo della Lega Pro è semplicemente una proposta, nessuna soluzione penalizzerà le squadre che militano in Serie D. Blocco del campionato con aneste retrocessioni e ripescaggi, eccola l'ultima proposta per il momento nulla di più maturata dal consiglio direttivo della Lega Pro. Una netta presa di posizione che però ha fatto, qualora fosse realmente attuata, andare ad intaccare i piani futuri delle società che sognano il salto nella terza serie, cioè tutte le formazioni che occupano i secondi gradini del podio o che comunque al termine del campionato avrebbero dovuto disputare i play-off. A provare a smorzare gli animi ci ha provato e facendo chiarezza lo stesso Cosimo Sibilla attraverso una nota comparsa sul sito ufficiale della LND. La Lega Nazionale Direttanti, si legge, prende posizione evidenziando che quanto indicato dal consiglio direttivo della Lega Pro alle società in previsione dell'Assemblea, convocata per il 4 maggio, costituisce una semplice proposta. Una proposta, conclude la nota, che peraltro non è stata concordata né preventivamente illustrata dal presidente della stessa Lega Pro, ma intanto dai club come il presidente della Virtus Fancavilla Magri fanno sapere che la Lega non era mai stata così unita e quindi Serie C come Caos, Serie C che ha in mano il destino del calcio italiano.